Nel prossimo esercizio creeremo questo assieme utilizzando anche parti preassiemate e poi applicheremo un'animazione mettendo in moto i componenti come se fossero azionati da un motore. In questo sotto assieme ci sono alcuni accoppiamenti fissi per rendere solidale l'eccentrico con il cuscinetto e con l'ingranaggio e alcuni accoppiamenti mobili per permettere la rotazione. Ad esempio l'eccentrico, il cuscinetto e l'ingranaggio sono liberi solo di ruotare. Andiamo ad aggiungere la biella, il pistone e la canna per completare questo assieme. Facciamo clic su inserisci componenti, quindi su sfoglia, facciamo doppio clic su biella. Inseriamo la biella qui, poi attiviamo accoppia, stessiniamo questa faccia cilindrica e questa, diamo l'ok, quindi selezioniamo questa faccia e questa faccia e diamo l'ok. Usciamo dall'accoppiamento, facciamo clic ancora su inserisci componenti, quindi su sfoglia, espandiamo questo menu, selezioniamo assiemi, quindi facciamo doppio clic su assieme pistone. Posizioniamolo qui, quindi selezioniamo ruota componente, diamo lì una rotazione, lo stiamo un po' a destra. Usciamo da ruota componente, selezioniamo questo perno, facciamo clic su accoppia, selezioniamo questa faccia cilindrica della biella, diamo l'ok, ora espandiamo il feature manager, selezioniamo il piano superiore della spina, accoppiamolo con il piano frontale della biella, quindi diamo l'ok, usciamo dall'accoppiamento, facciamo clic su inserisci componenti, quindi su sfoglia, facciamo doppio clic su canna, inseriamolo qui, poi selezioniamo ruota componente e una rotazione, la canna, mettiamola circa in posizione, usciamo dal comando ruota componente, facciamo clic su accoppia, selezioniamo questa faccia cilindrica, accoppiamola con la faccia cilindrica del pistone, diamo l'ok, espandiamo il feature manager, espandiamo canna, selezioniamo il piano destro della canna, espandiamo piastra, accoppiamola con il piano destro della piastra, diamo l'ok, ora accoppiamo questa faccia della canna, con questa faccia della piastra, diamo l'ok, usciamo dal comando accoppiamento, tutto sembra funzionare bene, ora se non fosse già attivato, andiamo in visualizza, barre degli strumenti, attiviamo un motion manager, lo troviamo attivato nella parte inferiore dello schermo, con il nome studio di movimento 1, facciamo clic su studio di movimento 1, quindi attiviamo il comando motore, lasciamo selezionato motore rotatorio, in componente o direzione, selezioniamo questa faccia dell'eccentrico, diamo un senso orario alla rotazione, quindi facciamo clic su direzione contraria, lasciamo velocità costante, e inseriamo 10 giri al minuto, quindi diamo l'ok, trasciniamo questa chiave, fino a dare una durata del movimento di 10 secondi, lasciamo selezionato la modalità loop, e facciamo clic su calcola, l'animazione viene ripetuta all'infinito, facciamo clic su stop, per ripetere l'animazione, basta fare clic su esecuzione dall'inizio, oppure su play, facciamo clic su esecuzione dall'inizio, quindi su stop, si può utilizzare la linea temporale dello studio del movimento e l'albero di disegno motion manager per sospendere gli accoppiamenti in uno studio del movimento, nell'albero di disegno motion manager espandiamo accoppia, per concentrico 4, facciamo clic col pulsante destro del mouse, su 2 secondi, quindi facciamo clic su posiziona chiave, inseriamo un'altra chiave su 4 secondi, impostiamo la linea temporale su 2 secondi, quindi facciamo clic col pulsante destro su concentrico 4, nell'albero di disegno motion manager, e sezioniamo sospendi, l'accoppiamento risulta sospeso tra i 2 secondi e i 4 secondi, quindi facciamo clic su calcola, facciamo clic su stop, rimpostiamo la barra temporale su 2 secondi, facciamo clic su concentrico 4, e quindi clic su riattiva, è possibile salvare questa animazione in un file video, e quindi eseguirla con un normale player, per fare questo facciamo clic su salva animazione, dove è possibile salvare il file, per ora facciamo clic su esci, usciamo anche da motion manager, facciamo clic su modello, e così l'esercizio è terminato. e così l'esercizio è terminato,